Con 50 anni di passione, serietà e riqualificazione nel settore ottico, dal 1956 l'Ottica di Maio offre cordialità di esperienza al servizio dei clienti. Opportunità della Deco San Marzano. La denominazione comunale costituisce la carta di identità di un prodotto agricolo, agroalimentare o artigianale. È la certificazione attraverso cui un'amministrazione comunale ne attesta, tramite un disciplinare di produzione, il luogo di nascita e le caratteristiche che sono alla base del valore identitario per la comunità. E così, dopo oltre un anno di lavoro, il comune di San Marzano ha concluso l'iter per la definizione del marchio che andrà a identificare tre specialità locali. Il pomodoro San Marzano secco oppure a filetti, la melanzana e il fagiolino. Tre prodotti derivanti dal patrimonio agricolo locale che attraverso il marchio Deco saranno valorizzati. Dal fresco alla trasformazione, attraverso alcuni metodi di conservazione artigianali da anni utilizzati nella tradizione locale. Ieri sera la presentazione ufficiale alla presenza di politici, tecnici e imprenditori del settore. Abbiamo ascoltato Cosimo Annunziata, sindaco di San Marzano sul Sarno, e Vittorio San Giorgio, presidente della Coldiretti Salerno. Sì, al di là della presentazione dei prodotti tipici per i quali abbiamo istituito questa Deco, io credo che sia un momento fondamentale, importante, se non strategico, per lo sviluppo della nostra area e delle nostre aree contigue. Non è più possibile continuare a parlare di agricoltura racchiusa in quello che può essere il confine di un singolo comune, ma dobbiamo immaginarci un'agricoltura imprenditoriale conservando sicuramente le proprie caratteristiche, ma guardando al futuro, guardando al futuro e quindi guardando anche gli strumenti nuovi che offrono, i nuovi strumenti legislativi appunto, per far sì che vi sia uno sviluppo vero, concreto e che possa dare risposta importante ai territori. Questo si prefigge stasera con questo evento, diciamo, conclusivo sulla Deco che abbiamo organizzato e portato a termine. Questa rientra un po' in quelle iniziative che stiamo accompagnando e sostenendo in tutta la provincia di Salerno, laddove si parla di valorizzazione strettamente legata a quello che è il progetto economico che col diretti ha presentato al paese Italia. I dati sull'agroalimentare ci dicono che l'agroalimentare del sud fa crescere il PIL, addirittura si presenta con un PIL da paese asiatico e nell'agroalimentare i giovani la fanno da padrone sia per innovazione e per novità e sia anche per dato occupazionale. Per quanto riguarda l'iniziativa di stasera, assolutamente pregevole perché si vanno a valorizzare anche prodotti meno noti come il fagiolino piuttosto che le melenzane. Il consiglio e il suggerimento che diamo all'amministrazione invece per quanto riguarda il pomodoro San Marzano è che non va messo in campo un ennesimo marchio ma tutti insieme dobbiamo lavorare per la valorizzazione e per la crescita della DOP.